Amici di Borsa ben ritrovati sono Anthony Famulari come ogni giovedì applichiamo un metodo Famine Live andiamo ad analizzare l'SP500 che come vedete la chiusura di ieri è all'interno del canale 23 marzo, mercoledì 23 marzo quindi questo significa semplicemente che ancora siamo in una fase incerta quindi diamo tempo aspettiamo la prossima settimana se ce lo troviamo qua sopra allora possiamo dire che la fase è tornata ad essere positiva altrimenti continuerà ad essere negativa cosa cambia a livello di sistema? cambia semplicemente il tipo di modalità se siamo in una fase positiva siamo in una modalità completa quindi vendiamo e compriamo azioni altrimenti se stiamo in una fase negativa possiamo soltanto vendere azioni quindi se la prossima settimana il mercato scambierà qua sopra sopra il canale avremo una fase positiva e allora poiché abbiamo una buona liquidità perché nel tempo abbiamo ridotto la nostra esposizione in modo coerente con la fase negativa del mercato e allora questa liquidità e allora questa liquidità torneremo a reinvestirla comprando azioni quindi convertendola in aziende questo ovviamente quando il mercato entrerà in una fase positiva ok quindi questa è la situazione del portafoglio generale attualmente guadagno latente che non ci interessa liquidità 20 posizioni 3 sono le posizioni attualmente in perdita e tutto il resto attualmente sono in guadagno andiamo a gestire il portafoglio se un titolo azionario scambia sotto il prezzo medio volumetrico viene eliminato dal listino cioè dall'SP500 presenta un'anomalia di volatilità o supera la centesima posizione in classifica andiamo a venderlo allora questo è il primo titolo che ho in portafoglio ed è il primo titolo più forte che ho in portafoglio questa è anche la settimana di gestione del rischio quindi Marathon Oil Corporation scambia sotto il prezzo medio volumetrico non presenta anomalia quindi lo dobbiamo mantenere in portafoglio guardate la forza relativa rispetto all'indice generale quando il mercato azionario continuerà quando il mercato azionario riprenderà a salire questo titolo farà ancora meglio perché ha avuto una forza relativa maggiore durante questa discesa quindi è il miglior candidato ad una prossima salita cioè correrà più forte rispetto ad altri quando il mercato generale tornerà a crescere una posizione di 18 pezzi possiamo permettercene però soltanto 13 e quindi possiamo tranquillamente vendere 5 pezzi al mercato quindi dobbiamo riequilibrare la posizione ridimensionarla adattandoci al rischio che intanto cambia quindi adesso 13 13 andiamo avanti Devon Energy 6 pezzi 5 manteniamo scambia sempre sopra non dobbiamo fare nulla APA Corporation 9 8 scambia sopra non dobbiamo fare nulla 4 pezzi 3 scambia sopra non dobbiamo fare niente andiamo su Chevron 4 pezzi 3 scambia sopra non dobbiamo fare niente Industries 4 3 scambia sopra Exxon Mobile 7 5 scambia sopra ABBV 5 5 scambia sopra 2 pezzi 2 pezzi scambia sopra il prezzo medio volumetrico non dobbiamo fare nulla Diamond Back 3 pezzi 2 scambia sopra non dobbiamo fare niente Vertex Farma 2 2 Atmos 7 6 non dobbiamo fare niente Any Source 27 26 5 4 Progressive 6 5 90 va bene così McCormick 7 6 anche qui non dobbiamo fare niente 6 pezzi 6 pezzi scambia sopra non dobbiamo fare niente manteniamo Aflac 11 11 Centene 8 6 manteniamo se continua a scendere andremo a ridimensionare questa posizione Tyson Foods scambia sotto il prezzo medio volumetrico quindi lo dobbiamo vendere e lo dobbiamo eliminare e dobbiamo eliminare il colore perché non fa più parte del nostro portafoglio non possiamo comprarne altri cioè non possiamo ruotarlo con un'altra azione né possiamo convertire questa liquidità in titoli azionari perché ancora ci troviamo in una fase negativa in realtà è una fase incerta perché all'interno l'ultima chiusura è all'interno se questa chiusura di se la chiusura di ieri fosse stata sopra il canale esattamente come questa del 22 marzo allora il sistema passava dalla modalità parziale a modalità completa quindi dovevamo convertire la liquidità che abbiamo in titoli azionari perché adesso possiamo comprare azioni partendo sempre dalla più forte quindi cominciando da occidente al petroleum e cominciamo a comprare da qua fino a distribuire tutto il nostro capitale quindi convertiamo la liquidità che abbiamo in in titoli azionari tornando ad essere completamente investiti per adesso non siamo completamente investiti questo perché il mercato è in una fase negativa e quindi il sistema vi fa progressivamente adattare a questa fase negativa vendendo azioni tornando progressivamente al 100% di liquidità perché questo è importante perché abbiamo la certezza assoluta in questo modo di avere drawdown limitati queste saranno le nuove azioni occidental halberton mosaic company queste saranno i prossimi nostri acquisti quando il mercato azionario generale tornerà in una fase positiva grazie per avermi ascoltato alla prossima settimana ciao a tutti grazie a tutti